bentornati al canale amo gli italiani con le ultime novità di oggi la lite tra ginevra ed elettra lamborghini va avanti da diversi anni ormai scopriamo cos'è successo veramente ginevra ed elettra lamborghini sono due ereditiere che hanno attirato molto l'attenzione del pubblico italiano soprattutto durante la partecipazione all'ultima edizione del grande fratello vip della maggiore delle due ovvero ginevra ma il rapporto tra le due sorelle è in crisi da diversi anni ormai infatti ginevra non è stata nemmeno invitata al matrimonio di elettra con dj afrojack celebrato nel 2020 sebbene la sorella maggiore abbia chiesto molte volte alla minore una riconciliazione familiare questa non è ancora successa i motivi antecedenti al gfvip 7 per i quali le due sorelle abbiano interrotto il loro rapporto in maniera drastica non sono molto chiari tuttavia ci sono stati dei leak e a determinati post pubblicati sui social media che pare abbiano gettato benzina sul fuoco la fase finale della faida lamborghini è iniziata con alcune considerazioni fatte dall'ex gfino antonino spinalvese riguardo a ginevra l'hairstylist all'inizio della permanenza nella casa credeva che ginevra fosse la tipica figlia di papà poco dopo però l'ex di belen rodriguez ha scoperto che la lamborghini era diversa e l'ha definita anche molto materna galeotto fu l'aggettivo di spinalvese non appena antonino ha definito ginevra materna il popolo del web e il pubblico televisivo sono entrati in rivolta un utente di twitter infatti ha postato un commento scrivendo materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella elettra questo tweet ha ricevuto molti cuoricini di apprezzamento ma quello che ha scaturito più scalpore di tutti è stato quello messo dalla stessa elettra questo comportamento fa dedurre che il rapporto tra ginevra e sua sorella minore non sia proprio tutto rose e fiori la lite e la competizione tra ginevra ed elettra quest'ultimo episodio tra le lamborghini andrebbe a rimpolpare i numerosi motivi di litigi tra le sorelle sembra che la maggiore abbia provato a rubare il fidanzato della minore inoltre ginevra avrebbe provato di tutto pur di entrare nel mondo della musica ed avere successo la musica è un terreno di competizione per ginevra ed elettra dal momento che la prima ha sempre voluto il successo che la seconda la maggiore ha avuto scarsi risultati nella musica mentre la minore è famosa in italia e in sud america il vero motivo della faida tra le lamborghini però è ancora un mistero grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità ci vediamo nei prossimi video